lancio mentor programma effettuato adesso si fa il celebrate perché quando lavori duro non puoi continuare a lavorare duro sennò ti viene un infarto devi celebrare quindi ce ne andiamo nella spa e come è andato il lancio sono distrutto però ho soddisfazione immensa quindi oggi ricarichiamo le batterie e pronti per andare a next level prende tutte le persone che sono entrate e portarla successo a come va guys oggi giornata giornata ancora 10x all inners siamo 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 on fire dopo il lancio di ieri sera oggi questa mattina abbiamo dedicato un po di tempo a relax e oggi siamo finiti a marbella in un hotel sul mare molto bello un hotel dove abbiamo incontrato due persone speciali due persone che in realtà sono stati i nostri mentor a distanza sono state persone che di grande successo nel mondo imprenditoriale soprattutto anche all'inizio vedevamo queste persone diciamo a un livello molto alto e dopo sei anni di grinding di fatica di prezzo pagato siamo siamo riusciti a incontrarli dal vivo eccoci allora 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 come è andato questo massacro di 48 ore sempre più stanchi sempre più distrutti ma non si molla di un centimetro questa sera questa sera questa sera arriva il nostro video gai thomas oppol non vedo l'ora che arrivi questa persona perché veramente gallo a fare i video ha rotto il cazzo grande thomas benvenuto a valencia benvenuti in mg stasera si inizia una nuova era ora 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 di volare si vola si vola verso valencia devastati devastati maverio liner non mollano mai mai dall'alba al tramonto sempre azione massiva ciao